Come eliminare le erbacce per sempre in modo naturale Chi ha un giardino, un balcone o una terrazza sa bene quanto le erbacce possano essere fastidiose e difficili da eliminare. . Crescono ovunque e, spesso, rappresentano una minaccia per le nostre piante, di seguito ti spieghiamo come eliminare le erbacce in modo naturale, evitando luso di sostanze chimiche. Bicarbonato di sodio. . È unopzione sicura e sana che ci permette di sbarazzarci delle erbacce che spesso crescono nelle crepe o nelle fughe delle mattonelle. . Versa un po di bicarbonato direttamente nelle crepe o nelle fughe. . . Sale. . Porta ad ebollizione 500 ml dacqua e 250 ml di sale, poi versa la soluzione direttamente sulle piante. . . In alternativa, versa del sale sul terriccio, poi spruzza con acqua. . . Aceto. È letale per alcuni tipi di piante, spruzza dellaceto direttamente sullerbaccia, sparirà dopo qualche giorno. . . Acqua bollente. . . È un rimedio semplice e veloce, versa dellacqua bollente direttamente sulla pianta per eliminarla. . . . . . . . . Grazie per la visione!